Anno 33 d.C. un uomo rappresenta la potenza di Roma imperiale nella tormentata terra di Palestina. Il suo nome è Ponzio Pilato. Io sono innocente del sangue di questo giusto. Prendetevelo. La più discussa e sconcertante figura di ogni epoca è sullo schermo. Che le aquile imperiali siano innalzate sopra il Tempio. Ricordatelo. Solo Roma comanda in Palestina. Procuratore di Roma in Giudea, il suo nome è legato al più grande avvenimento di tutti i tempi. Allora, sei un re? Tu lo hai detto. Per questo sono nato. Per rendere testimonianza alla verità. Che cos'è la verità? Ma dietro la maschera che la storia ci ha tramandato, si svolge silenzioso il dramma dell'uomo e delle sue passioni. Debole e violento, audace e vile, generoso e crudele, la sua figura è giunta a noi indefinita, ambigua, triste. Ma per un istante, nelle sue mani, fu il destino di colui che con la sua morte avrebbe redento il mondo. Lasciate che i pargoli vengano a me, perché loro è il regno dei cieli. La sua figura è un'escrita, ma per un'escrita, non è un'escrita, non è un'escrita. La sua figura è un'escrita, non è un'escrita, non è un'escrita, non è un'escrita. In Palestina non c'è posto per i parassiti e per i disonesti. Non c'è posto per questa gentaglia. Arresta Aaron Ekmesir. Ponzio Pilato, una eccezionale realizzazione cinematografica, in cui gli uomini che vissero quei drammatici, tempestosi giorni, vi appariranno in tutta la loro profonda umanità. Uno di voi mi tradirà. No! No! No!